è vero, l'ennesima volta un'altra lotta e ieri sera ho fatto la lotta contro il pollo che ci spiego, era un pollo casareccio e quindi dice che i polli casarecci sono più 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 si attaccano di più sai che tu compri i polli casti per me che tu si mollisci più che altro? più che altro? perché si attaccano all'osso con i casarecci e invece quelli altri e invece quelli altri i compri al negozio sono molto più più bollici a me gli ho fatto una lotta porca busana solo mi stacca la caglia all'osso e non mi casola ci ho fatto otta con i casetti e cercavo di sbucciare la testa e invece dovevo sbucciare la testa poi ho detto io dicevo che era sogno e invece era figola diciamo che ci stavano le spie invece non ci stavano l'ho fatto tutto il tempo a togliere le schiene che nonostante il punto non esistivano ma senti ma come l'hai salutato sfidanzato di tua cugina? oh cazzo ah ti spiego ah lui stava qua vedi questo era lui e questo è lui e questo è lui e ho fatto e ho fatto ora c'è come sta? e io ho fatto ah mi piace la ragazza e ho fatto eh mica no eh e poi mi piace la ragazza e io ho fatto come se non li faccio da giro lì e mi piace la ragazza e mi ricordo senza il timbo 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 Matteo ha fatto ah e ho giuro buona mi cuore e ho fatto mica no e poi basta mi sono andata perché ce ne ho taccone e non ci leggeri in piedi? ah aspetta no 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 eh ma non sentai che mi sto a mettere la scinta eh mi sono andata e io non che vede ah vada è finita? anche lì e io ho visto sto qua solo che aspetta no una cosa praticamente qua non c'era la faccina di Hello Kitty che uscì così che bello e qua stava scritto tipo Hello Kitty e qua ci stava un tastio qua tutto rosa scritto Hello Kitty in bianco e io stavo a comprare no proprio i padini mi hanno fatto si ma tu non sei una bambina? hai fatto anche io della bambina e poi e poi non è stata sembrata così e poi ho fatto ma guarda che bello quest'altro e avevo tutta commentata si si compro questo però quella costava che è ancora che paffanculo quella costava però 180 paffanculo e poi e poi ne ho in te c'era 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 le leggi cookies e vabbè ma vabbè ma comprati questo infatti vabbè papà ma quanto è bello sto cellulare e allora mi sono comprata quello ma devo dire a sincerità è come cioè è come conoscerlo praticamente cioè è come se io già lo sapevo usato il cellulare è come se ce l'avessi avuto già capito? eh sì c'è un casolo che era nero e non mi capisco ci sono arrivati non mi capisco allora non mi capisco un tour intorno alla cucola alla cucola alla cucola alla cucola sì ma quella notizia non si ha stavolta ma quale? non dire il nome ma quale quella di te sì 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 ma veramente no perché già lo sapevo che ci stavi a provare con lui cosa ti avevo detto? solo che figlia mia ma punti sempre in basso punta e io faccio la telecronista e Ludovica Varsori insinua che Anessia Merucci piaccia c'è no 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 io insinuo che lei si inquadra ma non è vero non è vero niente ah ah lì te fra Merucci e Varsori chi la spunterà? merucci ovvio sì Varsori l'ha già spuntata con il gamberetto e la crema catalana ma chissà chissà se se la farà con la cinta e con Anessia Merucci no aspetta seguiteci nella prossima puntata prima cosa era uno scherzo perché ti asano andrà solo su YouTube e Facebook e avrà tipo 400 visualizzazioni no Merucci vi è seri Ludovica mi raccomando a tutti gli spettatori di questo mondo e i bandi Ludovico Varsori e i miei fan mi raccomando di vedere il video Ludovico Varsori di essere gamberetto su YouTube un bacino a tutti i fan e questo è il il saluto di Ludovico Varsori a tutti i suoi fan sì a tutti ma lei non capisce mai quanto era uno scherzo o no era uno scherzo era uno scherzo era uno scherzo nel finger ogliela spero da sei ancora per la cinta di merda oh si ente non bestemmiasso infatti cosa è una bestemmia oh 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 ehhhhh è male sta ragazza che te lo diricule no ma stasera vuoi mangiare un altro po' eh tu dopo una comunione credo sì era una comunione dopo antipasto primo secondo contorno d'orzi C'era tipo il mio prozio Prozio? Prozio C'era il suo prozio No, c'era il suo prozio Oh, questa è da memorizzare Prozio? Prozio! Siccome ha vinto l'interno scudetto Prozio Ci stava questo qua che mi ha visto al cigarallo Allora ci stava l'altro bambino di staffa con noi che praticamente teneva la staffa dell'interno Allora è andato là con la cintina e ha fatto Ma io me l'ho preso! Era cucina a te? No Era l'altro bambino che mi sta piando e si è andato e non ha fatto le foto Prozio Ok Questo è dedicato a tutti i suoi fan A tutti In questa volta per la ludoviglia è consapevole di essere registrata quindi qualche psicologo lo potrà vedere Che razza di problema ha questa? Io ho un unico problema e ve lo dico è che io penso di essere a quanto pazza A quanto pazza? Ma no dai, i tuoi fan ti sto sterrando A tutti i cani A tutti i cani A tutti i cani Sì vero questo video? E' pure sto palo E' pure sto palo Basta riprendermi prego Basta riprendermi Basta riprendermi dai E basta Allora adesso Adesso rivolgo una domanda a tutti quelli che vedranno questo video Allora questa ragazza vi sembra normale? Ma poco E non proprio tutto 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 Ma poco Ma che c'ho fatto? Stava piovendo Io Sto riprendendo sei com'è Io Sto riprendendo te A me? Non sarai a casa di lui? No Adesso continui No non ci pensare proprio Continua Chissà perchè adesso Io Sto tornata come ero Io a volte E' tornata normale A volte E' a volte E' rara la cosa Ti posso filmare pure a te? Non ci pensare nemmeno No no Quella che sta filmando è Melissa Pinna Io ho semplicemente il ruolo di regista Sì vabbè ma tanto poi ti levi la voce Le canzoni No stavarta no Stavolta devono capire quello che dici Eh ma ci sto pure io Eh Nel senso Parla di questa Ma va solo su Youtube Youtube facebook Se riesco a metterlo pure da qualche altra parte Ancora meglio Finissima No tagli la mano di Alessia Certo No dai Ancora Ancora Senti Vuoi che facciamo una Ancora Dari dei live No Cioè salutare il tuo cugino Almeno rispetto per il tuo cugino Basta Ancora 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 Riferendo all'ex video Quello con quello Dica Stava lottando con il campionetto No 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 C'ho dei fanno ormai No 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 Tranquillo ma perchè non stai a continuare a quello che stai affasato? tanto lo dovranno vedere prima o poi io forse sono anche una persona normale fan non pensate che io sono sempre la sorta che io sia ah come le gente aia aia saluta i tuoi fan saluta 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 un attimo